Musica 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 Non ti buttare giù per favore Musica 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 Non mordono? Può, puotarsi Si Non l'hai visto? grazie a tutti ancora reattivo ma mica tanto punta nel bisogno grazie a tutti grazie a tutti è un maschino voglio neanche mettere dietro perché poi fa solo pastrocchio con la terra cos'è quello? è una pomata per la cicatrizzazione e anche leggermente antibiotica va vedo che posso andare lo rimettiamo? andiamo a vedere se c'è ancora la mamma grazie a tutti Grazie.